Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di superstizioni. Le superstizioni sono nate in tempi molto antichi, quando il timore di ciò che non poteva essere spiegato prevaleva sulla razionalità. Che queste convinzioni siano sopravvissute per tanto tempo, e secondo alcuni costituiscano addirittura verità, è da attribuirsi alla loro valenza mitica. Di seguito, alcune delle superstizioni più diffuse e conosciute al mondo. Le candele. Porta male la goccia di cera che scivola lungo il fusto della candela. Il cane. Il suo ululato è spesso presagio di morte. Il cappello. Mai posarlo sul letto, infatti, questo era il gesto del prete quando andava in una casa per dare un'estrema unzione. Il cucchiaio. Porta sfortuna a tenerlo con la mano sinistra. Il numero 17. In numeri romani il 17 si scrive vixi, che significa vissi. Il suo significato negativo aumenta se cade di martedì o venerdì. Martedì infatti è sotto il segno di Marte, dio guerriero che promuove i dissidi, e venerdì perché è propizio a diavoli e streghe. Il fagiolo. Esso simboleggiava la vita eterna per la sua caratteristica di riacquistare la freschezza originaria dopo essere stato immerso per qualche tempo nell'acqua. I fiammiferi. Sembra che porti sfortuna utilizzare in tre lo stesso fiammifero. L'origine di questa superstizione risale alla Prima Guerra Mondiale. Quando i soldati erano in trincea e volevano fumare, uno accendeva un fiammifero. Il soldato nemico vedeva la fiamma e imbracciava il fucile. Il secondo si accendeva la sigaretta. Il cecchino prendeva la mira. Il fiammifero passava al terzo, e il cecchino sparava. Le forbici. Se cadono a terra, prima di raccoglierle bisogna posarci sopra il piede per eliminare il cattivo presagio. Il gatto nero. Anticamente quando non esisteva l'energia elettrica, incrociare un gatto nero mentre si andava a cavallo significava quasi sempre fare i conti con lo spavento dell'animale e farsi sbalzare dalla sella. Il letto. Porta male Shepdere dalla parte sinistra, che è universalmente considerata la parte di Satana. L'olio. Rovesciarlo è segno di malaugurio. Tanti secoli fa l'olio era un bene prezioso, e perderne costituiva un danno. L'ombrello. Aprirlo in casa significava richiamare la sfortuna. Un tempo, se qualcuno aveva l'ombrello aperto al chiuso aveva il tetto da riparare. Il pane. Appoggiato alla rovescia sulla tavola porta fame e patimenti. I quadri. Non andrebbero appesi alle pareti se raffigurano uccelli, che portano sventura. Anche un quadro che cade porta male. Il ragno. Uccidere un ragno di notte o al mattino porta male. Il sale. Nei tempi antichi era simbolo di amicizia, tant'è vero che ne poneva una coppa davanti ai commensali. Un giorno, un invitato l'ha inavvertitamente rovesciata sul tavolo, provocando la collera del padrone di casa che l'ha ucciso. Ecco perché versale il sale porta sfortuna. Una piccola avvertenza. Se ne cade, basta buttarne un po' dietro la spalla, finirà negli occhi del diavolo che è sempre inagguato. La scala. La scala appoggiata al muro forma un triangolo, simbolo della Trinità. Passarci sotto è una grave mancanza di rispetto e porta male. La scopa. È segno in fausto spazzare il pavimento al sorgere del sole e subito dopo il tramonto. Il sedano. Negli orti di Greci e Romani non mancava mai, perché allontana le forze del male. Lo specchio. Anticamente si credeva che le superfici riflettenti rubassero un po' dello spirito vitale della persona. Frantumandone uno, quindi, si frantumava un pezzo della persona stessa. Ecco la superstizione per cui uno specchio rotto porta sette anni di sfortuna. Il numero 13. Per gli orientali, dodici degli spiriti che aleggiano intorno al focolare domestico sono buoni, mentre il tredicesimo viene rappresentato come una vecchia vestita di stracci che simboleggiava la miseria, il dolore e la morte. Furono gli zingari a diffondere questa credenza. Nei tarocchi, infatti, il numero 13 è assegnato alla signora con la falce. Le uova. Non bisogna gettare il guscio intero, ma spezzarlo per evitare che il demonio vi si nasconda. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, e iscrivetevi al canale. Grazie per l'attenzione.